Alcuni passi dal libro Invece della Catastrofe di Giulietto Chiesa, pubblicato nel 2013. Abbiamo costruito un sistema economico-sociale fondato su una crescita infinita di se stesso, un sistema che se smettesse di crescere esponenzialmente come fa da alcuni secoli, crollerebbe in maniera catastrofica. Il sistema finito di risorse, la nostra Terra, il suo equilibrio complessivo, è già stato sottoposto a rotture di portata tale che il ripristino dei suoi cicli è ormai impossibile. Siamo, come dicono gli anglosassoli, in overshooting da una quarantina d'anni. Cioè stiamo consumando più risorse di quelle che l'ecosistema che ci ospita è in grado di riprodurre. Situazione alla lunga insostenibile, come è evidente, ma anche sul versante opposto alla situazione già critica. Lo sviluppo ulteriore, a causa del ridursi delle risorse disponibili, sta diventando altrettanto impossibile. Il collasso del sistema economico-sociale, che chiamiamo capitalismo, è inesorabile e prevedibile. Ora, tuttavia, una serie immane di dati oggettivi, talmente evidenti che non è più possibile ignorarli, ci dicono, ci gridano, che quel prima o poi è arrivato. Per meglio dire, si vede all'orizzonte, si avvicina di gran carriera. Sappiamo che non possiamo più evitarlo. Non solo, tutti i dati di cui disponiamo ci dicono che non avremo più tempo neanche per fare i bagagli o per predisporre le difese indispensabili. Sappiamo già che il collasso, una serie di collassi, sarà inevitabile e che in esso, in essi, molti dovranno soffrire. A milioni, periranno. Sono i nostri figli, i nostri nipoti. Più in là è impossibile fare pronostici, la specie dei quali le passate generazioni e la nostra hanno vissuto spensieratamente, ignare di ciò che stavano facendo. La maggior parte è convinta di poter scampare alla catastrofe e di poter in qualche modo salvare anche i propri familiari, amici e sodali. In genere, il livello intellettuale e morale di queste persone è tale che soltanto uno sciocco potrebbe affidare loro il proprio destino. Essi ci sono nemici, sono strategicamente stupidi e per questo sommamente pericolosi. Hanno contribuito a creare il disastro che si prepara e pur sapendo che lo si poteva evitare o ridurre, non hanno fatto nulla. Anzi, hanno continuato imperterriti a devastare il pianeta. Hanno creduto ciecamente nella crescita infinita. Non hanno nella loro mente nessuna percezione del limite. Non ha limite la loro ingordigia, la loro sete di potere. Pensano che il denaro che creano sia praticamente infinito, mentre lo è soltanto in teoria. Pensano di poter dilatare all'infinito il loro potere, ma anch'esso non è e non sarà infinito. Costoro sono dunque dei mutanti, pericolosi per sé e soprattutto per gli altri. In fondo, senza saperlo, sono degli aspiranti suicidi, dei giocatori alla roulette russa, convinti che nel rullo della pistola non ci sarà mai la loro pallottola. Questo libro, se servirà a qualche cosa, è scritto per metterli in condizione di non nuocere al resto del genere umano. Una gran parte della società umana, quella ormai unificata dal capitalismo globale, è costruita su postulati del consumo, del mercato, del denaro. Il dato di partenza ci avverte che è come un treno lanciato a grande velocità verso un precipizio. L'interrogativo che dovremmo risolvere è se sia possibile fermarlo. Ma coloro che credono di guidare quel treno non hanno la minima intenzione di fermarlo e nemmeno di frenarlo. E poiché non sarà possibile farlo con mezzi pacifici, poiché questa élite non è capace di negoziare il proprio tramonto, si delinea, sempre più visibile e minacciosa, la possibilità di guerre devastanti. Sarà il corso stesso per gli svolgimenti che l'uomo ha prodotto, ormai non più arrestabile, a provocare collassi e rivoluzioni. Siamo all'inizio di un cambiamento di fase. Ciò che accade in un cambiamento di fase è tanto potente e tanto imprevedibile nei suoi momenti costitutivi quanto lo è un terremoto o un uragano. Non è, dunque, su una rivoluzione politica consapevolmente organizzata che occorre puntare lo sguardo. Io penso non sia nemmeno possibile organizzare una rivoluzione. E anche se teoricamente lo si potesse pensare, non credo che servirebbe a nulla di fronte a ciò che si preannuncia, che è superiore per diversi ordini di grandezza. Se c'è qualcosa che possiamo ancora fare, essendo realisti, è affrontare il compito comunque immane di ricostruire equilibri tra uomo e natura che siano compatibili con la sopravvivenza umana. Più che di rivoluzioni abbiamo bisogno di tornare indietro, di ridiventare conservatori, di ricordare ciò che abbiamo dimenticato, di ripristinare ciò che abbiamo intaccato, di risparmiare ciò che stiamo dilapidando, di riciclare e riconvertire ciò che abbiamo sprecato. Per guidare l'umanità verso una transizione di equilibratrice e pacifica nei limiti del possibile da questa società al tramonto a quella che la sostituirà, occorre prima di tutto formulare una teoria che spieghi questa società, cioè l'attuale approdo umano. Questa teoria ancora non esiste. Ciò di cui disponiamo e che è divenuto ormai pressoché universale è l'ideologia della crescita illimitata. Solo una collettività di saggi che trovi le forze e i mezzi per avviare un progetto planetario e indicare le forme di una nuova architettura politica internazionale che parte dall'assunto per cui nessuna civiltà umana potrà affrontare da sola e meno che mai contro le altre la soluzione di questi problemi. Solo una forza che riunifichi politica ed etica, governo e democrazia, scienza e potere. Solo una tale collettività potrà fare ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Sarà questa sì una gigantesca trasformazione delle menti che esigerà una transizione sicuramente drammatica ma che richiederà per poter procedere la partecipazione attiva e consapevole dei milioni di esseri umani che la creeranno. Esatto contrario di ciò che sta avvenendo con miliardi di persone che nulla sanno e che vengono condotte al macello da pifferai niente affatto magici. Un'alternativa appunto di proporzioni in mani ma l'unica ancora possibile. Se noi fossimo il macchinista di un treno di x tonnellate di peso lanciato a y chilometri orari su un binario rettilineo sapremmo che azionando il freno all'improvviso dovremmo preventivare un determinato intervallo di tempo e una determinata distanza prima che il treno possa arrestarsi del tutto. Tutto questo si può calcolare con precisione conoscendo la massa x e la velocità y del treno in ogni caso nessuna persona sensata penserebbe che il treno si possa fermare all'istante nel punto in cui si è azionato il freno. La stessa cosa vale per una grande nave. Trovandovi in situazione d'emergenza potrete girare il timone con la rapidità consentita dai meccanismi a disposizione ma non potrete attendervi di cambiare istantaneamente traiettoria. La forza dell'inerzia e il peso della nave determineranno la parabola della rutta e se l'avvistamento dell'iceberg avviene in ritardo non esisterà forza o artificio capace di evitare la collisione. Dunque quando in campo economico sociale politico si ha a che fare con grandi inerzie grandi dimensioni grandi modificazioni è possibile prevedere a grandi linee come sarà il nostro futuro ed è questo il punto noi viviamo in un contesto in cui nessun peso o quasi viene attribuito agli effetti che si producono in un lungo periodo di tempo forse mai come oggi la cultura e la mente degli uomini si sono concentrate sul presente il pastato è stato compresso fino a farlo scomparire e il futuro è stato raffigurato come una semplice estensione della realtà presente ma non è così e di ciò abbiamo già la prova attraverso un'ampia serie di dati facilmente estrapolabili grazie ai quali potremmo vedere molto più in là nel tempo e con una certa chiarezza se non lo facciamo è solo perché sospettiamo che essi ci rechino notizie che non vogliamo conoscere la spiegazione è semplice il sistema informativo comunicativo del cosiddetto villaggio globale aveva ricevuto un input assolutamente preciso riprodurre le idee correnti del mondo della finanza e poiché il mondo della finanza è il padrone del sistema informativo comunicativo quelle idee correnti erano e sono esclusivamente quelle della grande finanza il pensiero unico nel quale siamo stati allevati è il prodotto di quegli ambienti che hanno costruito il potere che ha dominato il pianeta negli ultimi tre secoli e questo pensiero unico si rivela oggi come la più impressionante bancarotta intellettuale degli ultimi due secoli ecco perché non abbiamo previsto il futuro che ci sta piombando addosso ed ecco perché siamo in grave pericolo tutto ci dice che le elite politiche ed economiche dell'occidente sono impegnate allo spasimo a impedire che il timone sia girato che il freno sia tirato che emergano i dati reali della situazione in cui ci troviamo per i potenti che controllano gli eventi il desiderio di vantaggi a breve termine soverchia il desiderio di risolvere i problemi a lungo termine questo è uno dei nostri problemi attuali rendersene conto è compito politico di prima grandezza senza il quale sarà difficile uscire a indenni dalla tempesta che si avvicina ma c'è un altro aspetto di questa crisi che ci impedisce di vederla e che infatti manca pressoché completamente in quasi tutte le analisi che si leggono in proposito il fatto è che noi pensiamo in termini lineari e che ci fa credere che i mutamenti siano lenti talvolta impercettibili in molti casi non misurabili all'interno di poche generazioni per questo pensiamo che gli imperi possano sì cadere ma solo nell'arco di secoli a maggior ragione questa convinzione si fortifica quando vediamo le rovine di antiche civiltà che hanno resistito ai millenni e ancora più sterminata ci appare la sostanziale stabilità delle cose quando osserviamo il nostro ecosistema il mondo in cui viviamo il pianeta che ci ospita tutto ci appare costante se muta e sappiamo teoricamente che muta lo fa nell'arco di secoli millenni o milioni di anni questa è la nostra consuetudine che curiosamente assegna solo ai contemporanei la prerogativa di fare svolte anche brusche ma pensiamo che esse si accomoderanno tutte nell'alvio di un grande e lento fiume ecco è proprio questo retro pensiero che si nasconde il limite della nostra capacità di comprendere la crisi attuale è la nostra corta visione lineare a imporci di immaginare il ponte che ci connetterà alle generazioni future come una semplice continuazione della nostra vita attuale eppure molto di ciò che accade ci sta dicendo che l'intero apparato concettuale di cui disponiamo è del tutto inadatto alla situazione che ci troviamo a fronteggiare come possiamo definire questa situazione siamo giunti allo stadio inconsapevolmente suicida di una collettività che attinge a una risorsa finita la terra con la legge dell'incremento percentuale costante esattamente questo comportamento logistico a determinare collassi inattesi che arrivano non dopo secoli ma all'improvviso come un ladro nella notte provo a spiegare cosa questo significa in termini fisici siamo di fronte a un punto critico che caratterizza gli accumuli di tensione e che producono improvvisi rotture una trave può resistere per lungo tempo a sollecitazioni crescenti fino a un certo momento è intera ma dopo quel determinato momento si rompe la situazione muta istantaneamente in modo radicale l'edificio che fino a un attimo prima era sostenuto da quella trave crolla cos'è accaduto quell'attimo è stato l'ultimo dei mille che l'hanno preceduto all'interno di un processo continuo ma è anche quello che non fa parte della continuità perché per l'appunto con esso la continuità termina similmente una crisi fino a un attimo prima invisibile si palesa in modo inatteso circa il 95% dell'intera produzione mondiale attuale è direttamente o indirettamente connessa con la produzione di petrolio anche ai più ottimisti non può sfuggire che si dovrebbe cominciare oggi stesso a introdurre a livello di grandi masse popolari un cambio di vita di organizzazione di rapporti sociali e produttivi una ristrutturazione industriale una sostituzione delle fonti di energia tutto ciò su scala mondiale siamo attrezzati per affrontare questa virata lo siamo così poco che notizie come queste vengono accuratamente nascoste all'opinione pubblica mondiale la quale in tal modo viene privata della possibilità di riflettere e prepararsi consapevolmente alla non rinviabile necessità di mutare abitudini modi di lavorare di vivere di consumare le stesse leadership politiche culturali e mediatiche anche se compongono l'opinione pubblica e in gran parte la determinano ignorano questi dati e di conseguenza non sono in grado di affrontare le misure necessarie per affrontarli ecco perché pur potendo in parte prevedere il futuro lasciamo che ci venga addosso e ci travolga ci siamo addentrati nel ventunesimo secolo portando con noi le idee del ventesimo non basteranno come non bastarono nel ventesimo le idee del diciannovesimo che erano basate sulla tecnologia della macchina a vapore il ventesimo secolo ha vissuto con l'idea dell'elettricità ma noi dovremmo ragionare in termini di nanotecnologie e anche qui è nascosta l'insidia dell'illusione che ogni passaggio d'epoca porti con sé la tecnologia che prepara il prossimo cambiamento così ha funzionato e funziona l'idea di progresso è questa grande illusione l'idea che impedisce di vedere l'inizio della crisi epocale che stiamo vivendo saranno le tecnologie a salvarci non ci sarà più l'energia fossile bene ribattono gli ottimisti gli scienziati ci daranno qualcos'altro che la sostituisca cosa esattamente in quanto tempo e a quali costi non si sa ma è sempre stato così e dunque concludono continuerà ad essere così se non che noi già sappiamo che anche per la scienza e la tecnologia si sta andando verso un cambio di fase e in un cambio di fase si deve prevedere una discontinuità o una serie di discontinuità queste discontinuità nel campo delle scienze e delle tecnologie hanno in questo cambio focale di paradigmi un dato specifico che le caratterizza l'immanenza della perdita di controllo la questione numero uno è oggi quello della stessa sopravvivenza umana perché pongo il problema in questi termini così drasticamente perché tutti i dati di cui disponiamo indicano che si sta avvicinando il punto di convergenza tra processi che a si sviluppano simultaneamente b interagiscono fra loro in forme incontrollabili c si trovano tutti in una fase critica questo significa che è divenuta improvvisamente altissima la probabilità che questo esito questo punto di convergenza si configuri come una drastica discontinuità come un cambio di fase o di stato del sistema nel suo complesso cioè come una singolarità l'idea di singolarità come si è capito è osteggiata dalla grande massa degli economisti e dei commentatori politici contro di essa sono state scagliate tutte le armi possibili del mainstream informativo e cui compito principale di occultarla dunque non è entrata se non discorcio nel dibattito scientifico contemporaneo ma anche nel piccolo spiraglio che si ha conquistato è stata per così dire attenuata disinnescata marginalizzata l'idea stessa di un cambiamento di fase non è di casa per non dire del tutto estranea nemmeno è master of universe e ben si comprende perché dato che questa idea mette a repentaglio il loro potere essi sono impregnati di eternità e di infiniti di assingoti e di assenze di soluzioni di continuità della crescita cosa possa accadere alla società umana in una singolarità non lo sa proprio nessuno dunque è meglio non pensarci si preferisce pensare che prima di arrivare alla singolarità avremo una serie di previsi di allarmi che ci consentiranno di prevenirla e di fermarla ed è proprio vero come ha scritto Romano Madera che l'uomo impara solo dalle catastrofi altrimenti tira dritto e ignora anche l'evidenza la realtà stessa è già piena di questi allarmi da decenni ma forse potenti si affannano a nasconderli e a travisarli i gruppi dirigenti del pianeta non li sentono e non li vedono anch'essi prigionieri quando non complici della congiura del silenzio dunque l'attesa di nuove rivelazioni è ingannevole pericolosa irrealistica ci impedisce di vedere quelle che già esistono si fa solo perdere tempo prezioso che sarebbe utile per predisporre le difese necessarie gli avvertimenti sono già più che sufficienti dopo di essi arriveranno i collassi improvvisi inevitabili in queste condizioni noi impegnate a inventare speranze stiamo escludendo le possibilità residue di una risposta organizzativa e tecnologica adeguata si provi a riflettere sull'evento di Fukushima e sulla catastrofe che ha investito decine di milioni di persone producendo in poche ore un collasso della produzione di energia elettrica del 15% dell'intera economia del Giappone e nessuno sa quali conseguenze si abbatteranno a lunga scadenza su centinaia di migliaia di individui sottoposti a dosi radioattive superiori alle norme comunemente accettate si immagina una metropoli di 10 milioni di abitanti improvvisamente privata di energie elettriche per 10 giorni consecutivi esistono piani di questo tipo di eventualità sempre meno fantastiche e sempre più probabili una teoria della sopravvivenza umana dovrà dunque basarsi su una spiegazione dei fatti nuovi e sconvolgenti prodotti dal venire meno dell'economia dell'abbondanza tra questi fatti nuovi alcuni devono essere studiati interamente ex novo e portati al centro dell'analisi politica e dell'azione pratica l'economia dell'abbondanza quella che ha caratterizzato gli ultimi due secoli della storia umana sta velocemente giungendo alla fine ma la sua produzione ideologica permane e addirittura si espande spasmodicamente ultimi fuochi ma fuochi pericolosi perché potenzialmente in grado di trascinare al disastro immense masse umane già plasmate a immagini dell'egoismo dello sviluppo infinito del consumismo senza limiti e molto difficilmente rieducabili a un rapporto di completa stazionarietà con la natura e con la natura